27 di dicembre qui da Tenerife Sud alle 5 meno un quarto perché l'orologio è avanti un'ora con 24 gradi andiamo a vedere che temperatura fa al nord certo che l'orologio è un'ora avanti perché qualcuno ad ottobre non l'ha cambiato eh vabbè ma ti lamenti sempre, comunque siamo all'altezza di Guimar e la temperatura regge 24 gradi abbiamo preso l'autopista direzione Santa Cruz io volevo andare a Santiago del Tele perché il panorama è molto più bello ma lui c'è anche Blechi dietro che ti guarda e dice cos'è che dice questa qua veramente sta cercando di guardare il panorama per la gioia di Luca abbiamo perso qualche grado quasi 5 stiamo andando a Puerto della Cruz quasi 5 gradi abbiamo perso perché la temperatura scivolava tra i 24 e i 25 sì ma va che bello Luca mi fa notare che ne abbiamo perso un altro di grado 19 cioè lui solo quello guarda cioè non guarda quanto verde c'è quanto comunque sia bello no lui guarda i gradi dicevo che io non sono brava con le riprese quanto Luca però guarda così vince a mani basse proprio eh siamo all'altezza della Rotava amici guardate che spettacolo sto padre Teide una meraviglia con dietro il sole che arriva lì con quel tramonto qualche raggetto che entra che spettacolo e comunque manteniamo 20 gradi olè guarda che spettacolo con la punta illuminata qui all'altezza di Puerto della Cruz amici siamo quasi arrivati ecco dove siamo amici Los Ralejos amore ma comprai una casettina qua? non ti dispiacerebbe? perché? non ti piacerebbe anzi non mi dispiacerebbe? eh non ti dispiacerebbe comprarne una? lo so perché comunque è proprio freschino qua al nord lo sai guarda siamo tornati anche a 20 gradi eh lo so ma è un caso oggi siamo proprio super fortunati guarda che bello no guarda che sono giorni fortunati questi eh sì in effetti sì è vero eccoci nel centro di Los Ralejos Ralejos hai sentito come l'ho detto bene? con la R tu mi prendi sempre in giro che simpatico ma l'ho vista 8 gradi qua eh non è che fai tanto la gnègnè poi metti sulla felpina eh ma io sto bene mica ho detto che devo andare nuda no cosa c'entra nuda? e quindi siamo qui con Blechi a Los Ralejos ormai si sta facendo sera e noi andiamo con Blechi a trovare degli amici passiamo la cena in compagnia e volevamo vedere che differenza c'era di temperatura ed effettivamente siamo partiti con 24-25 gradi e siamo arrivati qui allo Os Ralejos 18-19 quindi un 6 gradi differenza però sono curioso di vedere tra un po' quando scende la notte che temperatura fa qui al nord a Puerto della Cruz è un po' è un po' Grazie a tutti.